oh finalmente un mare tranquillo sabato scorso il mare era una bestia proprio non sono riuscito a entrare sto facendo una settimana sì e una settimana no oggi mi farò un giretino un po' fuori uscirò qualche centinaio di metri e pescherò sui 10 15 metri vediamo se riesco a recuperare qualcosa tanto vicino a terra al mare troppo calmo e pulito non ci sarà assolutamente niente vediamo se riesco a prendere due pesci andrebbero più che bene grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.